La scuola Romagnolo ci ha appena detto che è peccato, perché? Peccato perché in settimana i ragazzi si sono allenati molto molto bene, oggi forse è stata una delle partite più brutte che abbiamo giocato. È anche vero che abbiamo trovato di fronte una squadra molto quadrata, gente esperta in mezzo al campo che ci hanno dato parecchio filo da torce. Comunque un applauso a tutti i ragazzi perché nonostante in dieci, quasi una mezz'ora del secondo tempo, siamo riusciti a pareggiare la partita. Prima abbiamo avuto due o tre occasioni per poterla raddrizzare. Mi auguro che le cose vadano meglio, soprattutto in settimana durante gli allenamenti. Invece per quanto riguarda la parte tecnica ha cominciato con un modulo un po' diverso rispetto alle altre volte, con 3 punti, un 4-3-3, con Zanobi esterno a sinistra, a sinistra che forse non aveva il passo giusto, poi è passato al solito modulo. Forse pensandoci prima qualcosa sarebbe andato meglio, nonostante l'assenza di Valerio De Bardi, comunque un'assenza importante per il suo modulo. Sì, diciamo che giocando con una sola punta, perché in realtà era un 4-5-1 con Renzaia e Zanobi che rispettavano le loro fasce. Ho voluto mettere un po' più di giocatori, soprattutto a dare fastidio in mezzo alla difesa, cercando di far giocare Zanobi tra le linee. Mi ha detto bene, anche perché nonostante, ripeto, in 10 siamo riusciti anche a creare più occasioni rispetto al primo tempo, che è stato un primo tempo di corsa e di fatica, soprattutto di rincorsa nei confronti loro, che ripeto, è una squadra che sicuramente detterà legge nel mercato, nel campionato. L'Aerone era una partita, diciamo, un po' tra le società da scoprire. Adesso si sta confermando ad alti livelli che questa partita, la scorsa contro il Genzano, è un'altra dimostrazione. Tutti devono temere quindi l'Aerone? Ripeto, nessuno parte favorito dal primo minuto. Siamo forti noi come è forte l'avversario. Questo non significa che l'avversario è più forte di noi, lo deve dimostrare in mezzo al campo. Fino ad oggi ho visto i ragazzi in tutte le partite, compreso il Cori, che è una squadra che secondo me sta oltre la categoria stessa. Abbiamo dimostrato sempre di potercela giocare, continueremo a farlo e ci alleneremo magari per migliorare di partita in partita. Oggi è stata una partita molto difficile, anche perché, ripeto, incontravamo una squadra che seconda in campionato, lo dimostrano i numeri, una squadra che ha preso 8 gol in 9 partite, anzi 8 partite, 6 gol le ha presi in una sola partita, quindi significa che noi siamo riusciti a fare 2 gol e creare tante altre occasioni. Sono contento per il risultato, un po' meno per la fase di gioco che, ripeto, secondo me l'airone può dare molto di più.